L'attore americano Jamie Foxx è stato dimesso dalla clinica di riabilitazione, e ha parlato ai suoi followers per ringraziarli del supporto. Sono ormai passati più di tre mesi da quando l'attore americano Jamie Foxx, è stato ricoverato in una clinica a causa di un misterioso malore. Era stata la figlia Corinne Foxx ad annunciare, lo scorso 11 aprile, che suo padre aveva subito una complicazione medica mentre si trovava ad Atlanta per le riprese del film Netflix Back in Action con Cameron Diaz. Grazie al tempestivo intervento e alle ottime cure, è sulla buona strada per il recupero. Ora l'allarme sembra finalmente rientrato, e in queste ore l'attore è comparso sui social per rivolgersi ai suoi followers e ringraziarli di tutto il supporto ricevuto in questi lunghi mesi. Nelle scorse ore Jamie Foxx ha parlato per la prima volta su Instagram dopo essere stato dimesso dalla clinica. L'attore ha deciso di pubblicare un video messaggio nel quale ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fans per il supporto ricevuto. Foxx si è mostrato ai followers non nascondendo la visibile commozione. Non volevo che mi vedeste così, sono stato all'inferno e sono ritornato, ha dichiarato l'attore. Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato, e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati, e cercare di capire se ce l'avrei fatta. E a essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne, mi hanno salvato la vita.